ZAPE FRIVALI PORCO DIO ZAPE FRIVALI PORCO DI VALENTINO ATTACCO SUGIDIA DI VALENTINO ROSS HA MANDATO NO VATTEO SI VEDE LA CAPOCCHIA TUTTE E DUE ESCONO FUORI GUIDO MEIO O IO SINGERAMENTE MARQUEZ SI SALVA ATTENZIONE CON UNA GAMBA FUORI Scusa ma non frena automaticamente No devi frenare anche tu No non frena automaticamente Se no non ti accappottare Perché non freni Vedi Devi frenare e girare Non devi dosare Quanto sono esperti i nostri periodi Guido meglio io Bello la moto non si sa dove è andata Matteo è fermo lì da 10 minuti In quadriamo a macchina Non c'è il flashback Non ci sono il flashback In quadriamo a commento Ci sono i flashbacks I primi Non rimpagliamo la visuale di Chene in due non ci riesco in due non si sa n'arro 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 E ora intanto vediamo valentino rossi ancora a terra riuscirà a finire un giro sono 16 secondi marca cazzo vizionale pedrosa giro record che prima le gomme di valentino sono per esplodere come colmarca valentino cade ancora ho finito io il primo giro vediamo se ne sono anche due oggi sono i flashback ma ti ha finito il giro guardiamo mi ha scusato che bene valentino rossi con la scritta sopra riconnetti contro non scusate ci sono c'è dimmi non riesci tu no non 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 Oh, ma che c'è un po' un'altra? Valentino, cade anche a voi. Lorenzo che è prima. Valentino Rossi continua a cadere. Valentino Rossi continua a cadere. Mi sa che ora cade anche Marquez. Mentre Valentino cade l'altra volta. L'ultimo giro per Marquez che sta quasi a 50 secondi da Aiden. A momenti doppiano Valentino Rossi. Se almeno riesci a fare il terzo giro. Miracolosamente Valentino non sta cadendo. Attenzione, più di 15 secondi senza cadere. Questo è un nuovo record di Matteo. Parlate, Marla, Matteo. Io sono concentrato. È concentrato, attenzione. Non deve cadere. Neanch'io però se è caduto. La gara è terminata. Ok, gara è terminata. Noi continuiamo così. Così. Tanto Valentino cade. Purtroppo Matteo. Non ce l'ha fatto. Però è riuscito a stabilire un nuovo Guinness World Record. 15 secondi senza cadere. Cade, sa. Oh, ruota. Posteriore che si impenna addirittura a Marquez. Lascia provare. Attenzione, Valentino Rossi che viene doppiato dal compagno di squadra Lorenzo. Mentre Marquez sta per tagliare il traguardo quasi. Il giocatore Marquez però... Valentino cade. Che viene passato da doppiato Valentino. Valentino è doppiato. Vediamo se doppieranno anche il grande Marquez. Probabilmente sì. Mi potranno mai doppiare veloce Marquez. Corri come il vento. Dai stai. 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 Si gira. Dai stai. Comunque io ce l'ho fatta non in per sé. Bim. Sono arrivato quinto. Ora inquadriamo solamente. Però dalla prossima. Ah solo 24 secondi per tagliare il traguardo Martino. Se no non arriverà più il traguardo. Cioè se no sarà una gara. Verrà squalificato. Verrà squalificato. Non so. Ok la moto di Valentino è in fiamme tipo. Ok. Matteo è stato squalificato dalla gara. Appunto. Però. Fuori da raccaccio. È da raccaccio. Bella ragazzi. Iscrivetevi. Commentate. Lasciate un mi piace. Ci vediamo per il prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti.